Il lebullismo si vince soprattutto fra i banchi di scuola e questo il messaggio lanciato questa mattina nell'iniziativa organizzata dal dirigente scolastico dell'alberghiero De Cecco di Pescara Alessandra Di Pietro e che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale di Polizia Postale e Carabinieri. Si inizia dalla scuola ma la scuola non può gire da sola, bisogna ampliare la nostra comunità educante anche con il sopporto di altri enti ed associazioni oltre che delle istituzioni e quindi oggi abbiamo creato una sorta una rete di solidarietà che coinvolge anche l'ufficio scolastico provinciale in prima linea e soprattutto enti come la Polizia di Stato, il Chivanis, la FIDAPA e naturalmente anche gli psicologi. All'interno del vostro istituto professoressa voi come state operando, agendo in questo senso? Abbiamo fatto nostre le linee guida del Ministero dell'Istruzione e in particolare abbiamo costituito già da un pari di anni uno sportello antibullismo, un luogo dove i nostri docenti supportati, dove si ritiene necessario anche dai specialisti esterni, psicologi, intervengono quando si tratta di intercettare situazioni di disagio, dei nostri ragazzi, di contrastare il fenomeno di bullismo e siberbullismo. Al progetto hanno aderito anche i ragazzi del comprensivo Borrelli di Tornareccio e della scuola primaria di Orsogna. Ho coinvolto tutti e due questi istituti del primo ciclo perché insomma ci sembrava un ottimo segnale riprendere dopo la chiusura, dopo il lockdown e dare ai ragazzi l'occasione di confrontarsi anche con gli studenti più grandi di un grande istituto, del più grande istituto d'Abruzzo, con il quale abbiamo aperto appunto questa collaborazione per cercare di diffondere valori profondi relativi alla cultura della pace, all'accoglienza, alla tolleranza. Quindi ci sembrava davvero un buon modo per dare un segnale di ripartenza e per riportare qualche attività significativa in presenza per gli studenti.